L'arroganza della Gindal Group nel giustificare una finta crisi per smantellare il sito di Battipaglia, precostituendo false condizioni industriali sfavorevoli, dovrà essere contraccambiata con il taglio del finanziamento che la multinazionale ha ricevuto, pari a 700.000 euro. A scriverlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che ha inviato una lettera al Presidente della Regione De Luca sul caso Treofan, chiedendo un intervento immediato volto a restituire i fondi erogati a favore della multinazionale. Il finanziamento, continuo a Cammarano, è stato erogato con fondi PON in relazione ad un progetto industriale presentato da Treofan Italia, la cui condizione imprescindibile era il mantenimento dei livelli occupazionali per 5 anni. Tenuto conto che tale vincolo scade il prossimo 31 dicembre, appare chiaro che la Regione Campania debba pretendere dalla Treofan il rispetto di quelle condizioni, a partire dalla revoca dei licenziamenti annunciati tramite missive nelle scorse settimane o la restituzione dell'intero importo erogato.